Che sull'isola di Ischia agosto costituisse un mese molto caldo, non solo dal punto di vista meteorologico, ma soprattutto per quanto concerne l'ordine pubblico, questo è da sempre arcinoto. Ma certamente la settimana di ferragosto non poteva cominciare peggio di come iniziate in questo fine settimana. Infatti, ieri sera, gli agenti del commissariato di Ischia, durante il servizio di controllo del territorio, su segnalazione della centrale operativa, sono intervenuti presso un teatro di burattini in via de Gardo Cortese per un furto. I poliziotti sono stati avvicinati dalla vittima, titolare dell'attività, che ha raccontato che un uomo poco prima aveva asportato 120 euro dalla cassa ed era fuggito. Ad inseguirlo è stato lo stesso titolare, il quale, dopo averlo raggiunto, si è fatto riconsegnare la somma. Infine, grazie alle descrizioni fornite dalla vittima e alle immagini delle camere di videosorveglianza, gli agenti e gli ordini del vicequestore Ferrara hanno rintracciato Francesco Cuda, napoletano di 36 anni con precedenti di polizia, che è stato arrestato per furto aggravato. Ad acciuffarlo sono stati i falchi, che lo hanno arrestato all'interno della pineta Nancy Bozzi, nella quale il fuggitivo si era nascosto con la speranza di far perdere le proprie tracce. Stamattina l'arresto del Cuda è stato convalidato, ma poco dopo è stato rimesso in libertà. Cosa aggiungere? Ciò che ieri è accaduto tra le strade più eleganti dello shopping cittadino del comune di Ischia sono scene che, dalle nostre parti, generalmente, sentiamo raccontare solo in televisione, ma che invece, in un caldo pomeriggio di metà agosto, si sono vissute in presa diretta tra Viedegardo Cortese e il rinomato Corso Vittoria Colonna, passando per il parco pubblico incastonato tra la piazzetta San Girolamo e il lungomare Cristoforo Colombo. Rapina, inseguimento, l'arrivo degli agenti e l'arresto. Il tutto sotto lo sguardo incredulo di chi passeggiava tra i negozi del centro.